Si è risvegliato il mercato azionario, i principali indici sono tutti estremamente positivi e bullish. Cosa sta succedendo e quali sono state le motivazioni che hanno portato a questo aumento? Salve a tutti, Marco Casario qui e guardate qua, ho il grafico dell'S&P 500 aperto e guardate la candela di oggi. Guardate l'estensione, la forza di questa candela. Quante volte vi ho detto nei precedenti giorni che dopo questo ribasso che c'era stato, questo ritracciamento che era andato ad insistere proprio sulla media, rimbalzare sulla media 200 periodi, vi avevo tracciato questa linea qua intorno ai 2930 punti dell'S&P 500 e vi avevo detto, ragazzi finché si rimane all'interno di questa area qua, dove il lato maggiore è appunto questa struttura, il lato inferiore è questo minimo, aspettatevi grande volatilità. Infatti grande volatilità c'è stata, vedete, ma è sempre stata una volatilità che poi si è trasformata in un dato rifatto, perché grandi candele a ribasso e poi grandi candele a rialzo. Resistenza che ha funzionato per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volte il prezzo è stato respinto da questa resistenza, solo oggi trova coraggio e forza di rompere e ve lo faccio vedere non solo sul mercato dell'S&P 500, ma ve lo posso far vedere sul mercato del Nasdaq, andiamo sul QQQ, guardate qua con che gap apre il Nasdaq e si posiziona proprio su questa altra struttura importante, i massimi precedenti, quelli di maggio del 2019, vi li ricorderete, che erano stati rotti qua, con questo grande impulso, dopo che la Federal Reserve, la banca centrale, aveva appunto detto di non alzare più i tassi di interesse, anzi li ha poi cominciati ad abbassare di 25 punti base. E quindi anche il Nasdaq su una struttura di prezzo molto importante, posso farvi vedere anche il Dow Jones, e poi andiamo a vedere il Russell 2000, che sicuramente è l'indice che sconta un po' di meno la guerra con la Cina, ma che comunque ha sofferto in questo periodo e oggi vedete che infatti cresce meno degli altri indici, vedete la candela ha un'estensione minore, ha anche più volatilità. E andiamoci a vedere il Dow Jones, giusto per completare la nostra, andiamo a vedere il, eccolo qui, apre con questo gap, e grande forza anche lui su una struttura che ha funzionato da resistenza e da supporto in passato, struttura importante a 26.788, insomma grande forza da tutti quanti gli indici, possiamo andare a vedere anche in Italia come è la situazione, andiamo a vedere il MIB, il Fuzi MIB, eccolo qui, fatelo caricare, guardate, vedete che c'è grande entusiasmo e positività sui mercati. Cosa è successo rispetto all'altro ieri o qualche giorno fa? Ma quello che vi dico è che, come al solito lo zampino ce l'ha messo Trump, e la Trade War che ha detto, ha ufficializzato ormai in una dichiarazione, che è perfettamente cosciente che la Trade War ha portato i mercati, gli indici finanziari, i mercati azionari a subire un ribasso, e che se non ci fosse stata la Trade War l'economia sarebbe cresciuta tantissimo, e quindi gli indici sarebbero molto più in alto, lui è stato un responsabile, una responsabilità che si prende, che si assume, che dice che comunque è stata pianificata. Come per dire, signori americani, l'economia è forte, i mercati non stanno andando verso l'alto e crescendo come devono, solo perché questa Trade War, che è importante per il Paese, ha avuto ripercussioni negative. Da questa frase e anche da degli appuntamenti che sono stati presi a ottobre, tra l'America e la Cina, li leggete ormai nei principali articoli, che potrebbero quindi arrivare ad una risoluzione, Trump ieri ha detto che la Cina sarebbe stanca e vorrebbe metter fine a questa guerra dei trade, come se fosse adesso, se la Cina si stesse chinando, stesse chinando il capo alla forza dell'America per cercare di metter fine a questa Trade War, questo ovviamente è quello che vuol far credere Trump, ma fatto sta che la percezione dei mercati è estremamente positiva. Cosa ci possiamo aspettare andando a guardare l'S&P 500? Perché come al solito non è tutto oro quel che luccica. Allora ragazzi, il mercato qui adesso è in un momento importante perché siamo vicino ai 3000 punti, che già è una soglia psicologica importante. E stiamo anche su questa base qua, che in passato ha funzionato da supporto, il prezzo ci ha rimbalzato tre volte e a cui ha fatto tre massimi uno dopo l'altro dopo aver rimbalzato su questa struttura. Quindi siamo ad un punto importante, quindi attenzione a gridare già al nuovo massimo dell'S&P 500, perché adesso il prezzo, questa candela e le prossime candele devono chiudere al di sopra di queste, perché potrebbero invece usarla come resistenza e ritracciare ancora un pochino, prima di salire o addirittura per continuare a scendere. Quindi attenti ai facili entusiasmi. Fatto sta che io quando stamattina avevo sentito quest'aria di estrema positiva sui mercati, e sono andato a studiare i mercati in pre-market, non so se seguite il mio profilo Instagram, ma questa mattina, per continuare anche il discorso del video di ieri, ho chiuso le mie due posizioni sull'oro. Le ho chiuse a 1550 dollari. Eccole qua, sono queste due posizioni. Sapete, vi ho detto che su Instagram riesco a postare più velocemente queste informazioni, quindi mi raccomando seguitemi, il mio canale è The10MinuteTrader. E proprio stamattina, eccolo qui il post che ho fatto, e ho chiuso, avevo due posizioni aperte, vedete avevo aperto la prima qui, e la seconda, scusate no, questa era la prima che avevo aperto il 5, e poi avevo aperto la seconda il 9, quando il prezzo mi era venuto un po' contro, aumentando le mie posizioni, avevo qua 10 contratti, e il CFD, questo ragazzi, dell'oro, non siamo ovviamente sul future. E questo è quello che mi sono portato a casa, 1425 euro. Poi ho visto alcuni commenti, Marco, ma com'è così poco rispetto ai punti che ha guadagnato l'oro? Ragazzi, dipende dal capitale, dal profilo di rischio e dal money management. Io ovviamente qui che cosa ho? Questo è il mio, è il conto quello di breve termine, quello che utilizzo per pagarmi le vacanze, è un conto che, essendoci andato in ferie, avendo quindi fatto i miei prelievi, è un conto che è diventato più piccolo, e quindi il mio profilo di rischio, lo sapete, è circa l'1% a seconda della strategia, su questa strategia qua era l'1%, e quindi fatevi i calcoli, questa è un'operazione dal rapporto rischio-rendimento 1 a 5, l'abbiamo vista ieri, quindi è semplice capire perché questo è il profitto che ho fatto, e qual era il mio rischio, che era molto molto piccolo, quindi ho rischiato poco più di circa 300 euro, era il rischio, cioè lo stop loss nel caso in cui fosse andato in perdita, e questo 1.500 è quello che ho guadagnato, 5 volte il mio rischio, per questo l'operazione dal rapporto rischio-rendimento 1 a 5. Bene ragazzi, direi che per oggi è tutto, è una giornata molto molto interessante, molto molto positiva, sono sicuro che c'è chi sta stappando champagne, però attenzione di nuovo, ai facili entusiasmi, noi ci vediamo prestissimo, un commento qui sotto per dirmi come la pensate voi sulla giornata di oggi, che cosa pensate possa accadere nelle prossime giornate, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati, iscrivetevi anche sul mio canale Instagram, qua The10MinuteTrader, e ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao!